Mercoledì 23 marzo 40 cittadini ucraini esuli in fuga dalla guerra raggiungeranno il Cilento e Vallo di Diano. L'associazione La Vacanza del Sorriso si è organizzata per accoglierli utilizzando le modalità adottate durante le loro attività annuali. Le famiglie saranno sistemate presso gli appartamenti e altre soluzioni ricettive preparate per loro e distribuite in varie località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dove troveranno ad accoglierle i generosi titolari degli immobili e tutti i componenti dei gruppi solidali costituiti dalle persone e associazioni che si sono impegnati per provvedere al loro vitto. L'associazione Cilento Verde e Blu provvederà ad assisterli a livello locale, sanitario e sociale e ricreativo. Tutto ciò è reso possibile grazie alla strettissima collaborazione e all'accordo di programma stipulato tra l'associazione Cilento Verde e Blu e il Rotary Club Sapri Golfo di Policastro e ai Rotary Polacchi che si sono attivati per procacciare gli esuli presso il centro rifugiati di Przemsil in Polonia a circa 100 chilometri dalla città ucraina di Leopoli. La condivisione del progetto tra il Rotary Sapri e Golfo di Policastro nonché la stretta collaborazione con la segreteria del Rotary Giovanna Tripari, ha detto il presidente dell'associazione, ci ha permesso di sviluppare un sistema comune di accoglienza che prevede una divisione di compiti per i quali i Rotary si occuperanno del trasferimento degli esuli ucraini e delle procedure sanitarie. L'associazione Cilento Verde e Blu si occuperà dell'organizzazione, delle soluzioni ricettive e del vitto nonché dell'accoglienza e dell'assistenza alle famiglie ospiti negli appartamenti ubicati nelle varie località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'organizzazione conta di organizzare altri autobus a cadenza settimanale per andare in Polonia presso i centri dei rifugiati al fine di dare la possibilità a tante altre famiglie ucraine di raggiungere la solidale e accogliente terra del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, coloro che vorranno sostenere l'associazione attraverso la disponibilità di appartamenti, la fornitura di derrate alimentari e altri prodotti o donazioni in denaro, termina il presidente, potranno contattarci al seguente numero 339 66 84 818.